Poi si gira, continuo a saltare, e poi si rigira, bellissima. Poi sembra della Giulianese, c'è questa votata. Allora, tu vai di là e io vado di là, facendo così. Poi sembra della Giulianese, poi se ne si continua la votata. Questa, per esempio, è stata presa, questa votata la fanno nella nuova tua. Sì, l'ho vista in giro, sì, sì. E ce n'è una simile anche nella terzionese, perché nella terzionese si fa così, e poi ci si. Poi non si capisce di là, e poi se ne si scende di là. Quanto giro là. Vedi, la cosa che ho fatto è che sono state presi delle parti di un ballo ben definito. E quello che mi piacerebbe, è dire sia, questo fa parte di, sia poi, la nuova. Quindi rianniamo con ordine a quella che ci vuole di spiegare proprio adesso. Allora, quello che vuole di spiegare adesso. Sì. 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 Sì.